vediamo un attimo l'altro messaggio ragazzi, numero 18 ancora, chi è la 18? sempre tu, e vai, ma tu stai andando come il treno eh, allora non ti ho detto che il primo messaggio è gratuito, gli altri costano un euro, si paga l'uscita, le poste italiane niente, va bene, va bene, è la nostra barba, è raccomandata, allora vediamo un attimo, andiamo avanti ancora, altro messaggio, il numero, il numero 120 ragazzi, 120 donne tenete il numero esposto, se no non mi arriva niente, numero esposto, ecco, se fai così ne arriva di più, numero 120, chi è il 120 ragazzi, è un maschio, Silvio, tutte le donne lo adulano, lo chiamano già per nome, ciao, come ti chiami? Silvio, è vero proprio, da dove vieni Silvio? diciamo da Marotta, oramai mi hanno messo per Marotta, non è preciso, però è vicino vicino a Marotta, dalle Marche, ok, cosa fai di bene nella vita? Faccio l'autista, trasporto felicità, ah, bene, cosa trasporti? Felicinali della fighter? Sì, sì, felicità, pilole blu, va bene, ok, come vorresti la donna ideale? La donna ideale? Adesso ci devo pensare un po', ancora non ho fatto un'idea, ho fatto qualche anno, quando ho provuto un'idea chiara, va bene, non ho aspettato troppi, va bene, ok, qualche anno per Silvio poi deciderà quale sarà la donna ideale? Grazie a tutti.